Dottore Ennio Ciotta, coordinatore scientifico di Tieni a Mente il Cuore e Tieni a Mente il Tuo Cervello. Siamo alla seconda edizione, siamo all'ospedale di Sciacca. Cosa ci sarà di nuovo quest'anno? Ha detto bene, siamo alla seconda edizione di questo importantissimo screening. È stato fatto già l'anno scorso, in estate. Abbiamo fatto tantissime visite, oltre 500 visite per la popolazione. Abbiamo misurato colesterolo, trigliceridi, glicemia, abbiamo misurato la pressione, abbiamo fatto elettrocardiogramma. Quest'anno riproporremo alla popolazione per intero tutte queste nostre performance, nella speranza di individuare delle eventuali patologie misconosciute nella popolazione e i pazienti che saranno sottoposti a screening e coloro nei quali sarà visto che ci sarà un fattore rischio particolare come glicemia, come colesterolo, trigliceridi elevati o un'arittimia tipo la fibrillazione naturale e l'elettrocardiogramma verranno inviati all'ospedale di Sciacca presso la nostra cardiologia per essere avviati a esami di secondo livello. Quindi uno screening molto importante. Screening significa proprio ricerca nella popolazione. Andremo a ricercare nella popolazione eventuali pazienti o soggetti a rischio che magari non sanno di esserlo. Dottore, possono farlo tutti i tipi di pazienti da qualsiasi età? Possono farlo tutti, tecnicamente, e noi siamo aperti a tutti, però è chiaro che i pazienti a maggior rischio, che sono gli over 40 o por dire gli over 50, saranno quelli che meriteranno particolarmente le nostre attenzioni in quanto soggetti particolarmente a rischio rispetto ai pazienti più giovani. Però siamo aperti a tutti e noi offriremo il nostro servizio a tutti quanti che si presenteranno nei nostri stand. In cosa consiste lo screening? Lo screening, come dicevo, è una ricerca nella popolazione. Misurando il colesterolo andremo a valutare un rischio cardiovascolare e assegneremo un rischio cardiovascolare a questi pazienti. Lo stesso valutando la glicemia magari in pazienti diabetici che non sanno di esserlo. Faremo un elettrocardiogramma per cui magari se c'è una fibrillazione atriale, che è una patologia che predispone ad eventuali ictus, da cui il nome dello screening, e quindi andremo a individuare questi pazienti perché magari non sanno di avere un'aritmia e invece sono aritmici. La stessa cosa faremo con i triglicedi e la stessa cosa faremo con la pressione. Magari ipertesi che non sanno di esserlo e l'ipertensione, definito storicamente killer silenzioso, agisce silenziosamente ma poi uccide. Quindi andremo a screenare la popolazione che si presenterà nei nostri spazi per eventualmente individuare pazienti a rischio e da inviare, come avevo detto già, in ospedale. Per questo screening dobbiamo ringraziare la Bayer che ha dato un supporto incondizionato come ogni anno, che ci dà la possibilità di interagire con la popolazione per evidenziare la popolazione a rischio ed è uno screening fortemente voluto dalla direzione generale, dalla direzione strategica dell'ASP, quindi dal direttore generale il dottor Mazzara, dal direttore sanitario il dottor Mancuso, che verranno a visitarci sicuramente fra domani e dopo domani per essere loro stessi testimoni dello screening. Dobbiamo ringraziare il sindaco di Sciacca, l'amministrazione comunale l'ha aggiunta tutta perché ci ha dato gli spazi per poter effettuare e naturalmente l'ospedale di Sciacca che si fa portavoce dei bisogni del cittadino in primis.